buongiorno a tutti amici nexus lab sono alessandro e oggi vi presento la video recensione del huawei ashen p6 uno smartphone inatteso da huawei quest'anno che di solito si è sempre mantenuta su livelli buoni ma mai si è spinta in uno smartphone che potesse essere considerato un vero top di gamma a prezzi molto competitivi il huawei ashen p6 è un device che abbiamo provato per diversi giorni diverso tempo ci interessava molto perché huawei potrebbe essere nel prossimo futuro una delle aziende protagoniste di android però si deve ancora affermare in occidente mentre le sue infrastrutture ormai le troviamo in qualsiasi città italiana e non allora questa è la confezione di vendita non sappiamo probabilmente più che di vendita questa è quella dedicata ai giornalisti alla stampa quindi non possiamo confermarvi la presenza o meno di loghi o disegni nella in quella dedicata ai negozi parte superiore dove troviamo lo smartphone e poi troviamo queste tre scatoline allora iniziamo con questa piuttosto lunga allora apriamo un secondo o due scatoline qua dentro troviamo cuffie normali non in ear di buona qualità non eccezionali ma fanno il loro dovere cuffie auricolari poi in quest'altra scatola troviamo il caricabatterie da viaggio con il cavo usb che è sempre qua dentro ma incastrato e poi qua dentro troviamo la sorpresa più gradita una cover per questo smartphone spero scusate ma siamo in una postazione provvisoria spero che la luce vada bene aspettate la sposto più avanti così non si creano ombre una cover che sinceramente non ci saremmo aspettati non la troviamo in smartphone più costosi e in top di gamma magari anche da 700 euro un una cosa gradita da parte di huawei questo invece è il device come potete vedere tutto in praticamente metallo vetro la parte posteriore mentre troviamo questa piccola parte inferiore in plastica rigida anch'essa di ottima ottima qualità allora parliamo di dimensioni perché è importante abbiamo un'altezza di 132 per 65.5 di larghezza per soli 6.18 mm di spessori tutto in 120 grammi costruzione perfetta veramente siamo a livelli di iphone paritetica praticamente la costruzione soltanto che questo device come ben sappiamo costa meno della metà certo in huawei avrebbero potuto avere più fantasia troviamo anche le stesse rifiniture gli stessi dettagli lo stesso profilo parte bassa almeno quella non abbiamo il tastino di sistema però poco ci manca ci sarebbe mancato solo quello come potete vedere qua abbiamo il led di stato la capsula auricolare e la fotocamera anteriore tasti di sistema soft touch assenti anche quelli fisici abbiamo quelli dinamici lato sinistro che sembrerebbe pulito ma huawei ci ha fatto questa piccola chicca come potete vedere abbiamo questo tappo metallico possiamo definirlo così con questa punta che nasconde il jack da 3,5 delle cuffie punta che ci serve ottima scelta tra l'altro per sbloccare aprire sia lo slot per la micro sd fino a 32 giga ve lo dico già sia quello per la sim molto comodo non dover sempre cercare una punta portarsi dietro quella compresa nella maggior parte delle scatole tappino che si incastra perfettamente non si rischia neanche di perdere come vi dicevo smartphone molto pulito a livello estetico parte destra dove troviamo il bilanciere e il tasto di sblocco blocco e spegnimento e micro sd e slot per la micro sim sotto vediamo solo il microfono se riuscite a vederlo e l'alloggiamento della griglia nella parte posteriore per l'altoparlante parte posteriore interamente in metallo molto ben fatto leggero ma abbiamo provato a mettere in tasca un po martori arlo e non si sono verificati nessun graffio veramente ben fatto anche la parte della fotocamera molto minimale e molto discreta andiamo a scoprire invece nel dettaglio quello che nasconde il l'hardware di questo telefono chiediamo un attimo allora questo telefono nasconde un display niente male un 4.7 pollici hd ready abbiamo una risoluzione infatti di 1280 x 720 pixel una risoluzione che risulta essere più che sufficiente la stessa praticamente troviamo sul nexus 4 il display che è un lcd classico risulta essere molto ma molto luminoso veramente un piacere agli occhi non so se riuscite ad apprezzarlo e pur avendo una risoluzione magari inferiore rispetto agli ultimi siti top di gamma full hd non sfigura per niente questo smartphone ha una caratteristica fondamentale l'hardware in parte cioè il processore è prodotto dalla stessa a huawei che è stato in grado di produrre un processore nello specifico il k3 v2 quad core che risulta essere assolutamente performante la produzione fatta in casa probabilmente ha consentito anche una diminuzione dei costi per questo dal lancio l'abbiamo trovato già subito 350 ma già qualche offerta lo piazzava 300 euro circa 2 gigabyte di ram memoria di base da 8 giga espandibile fino a 32 gigabyte come vi ho detto in precedenza io però direi di passare subito alla personalizzazione del sistema operativo sistema operativo subito vedere abbiamo aggiornato abbiamo versione di android 4.2.2 huawei ha detto che aggiornerà praticamente sicuramente ad android 4.3 ma possiamo immaginarci anche che passerà direttamente ad android kitkat come potete vedere c'è una cosa che salta subito all'occhio manca il tastino per il drawer non c'è infatti il drawer scelta sempre che va a ispirarsi immancabilmente al mondo iphone ios dove il drawer non esiste e dove viene tutto inserito nelle home screen come potete vedere abbiamo la divisione in cartelle divisione già effettuata da huawei che ci organizza già diversi elementi quelli google gli strumenti eccetera eccetera la tendina contrariamente ai produttori sud coreani ok scusate i produttori sud coreani è piuttosto pulita non nasconde un secondo menu ma solo questo tendina aggiuntiva con le scorciatoie che tra l'altro può essere personalizzata andando a togliere elementi togliamo per esempio schermata possiamo catturare direttamente uno screenshot tramite quel tastino altro altre caratteristiche fortemente huawei ha voluto l'adozione dei temi temi sia scaricabili che è possibile anche selezionare già da quelli in locale temi che vanno a cambiare non solo il l'aspetto i colori eccetera ma anche le icone e la schermata di blocco sblocco come per esempio vi faccio vedere adesso abbiamo questo tipo di schermata con quattro scorciatoie ci consente anche di andare direttamente agli sms mettiamola mettiamo questo tema lo applichiamo tema applicato come potete vedere ciò cambiato le icone in stile del tema schermata di blocco sblocco e anche altri elementi che si possono scoprire successivamente tutto molto ben fatto temi molto orientali sinceramente soprattutto il tipo di icone però è apprezzabile questo sforzo di huawei di proporre qualcosa non di nuovissimo ma di proporlo in maniera efficiente tornano anche i profili profili che nascondono al loro interno tutta una serie di impostazioni come non solo il volume o la luminosità del display ma anche l'attivazione di servizio dati del wifi del bluetooth e della sincronizzazione tutto molto utile sinceramente i profili su android li rimetterei anche io facoltativi sarebbero un'aggiunta gradita allora altra caratteristica che sinceramente mi ha stupito in positivo è la qualità della fotocamera 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 che può essere paragonata tranquillamente a fotocamere di più alto livello con sensori anche sulla carta più performanti questo è un sensore da 8 megapixel mettiamo la nostra cover lì per essere fotografata l'interfaccia molto pulita mi è piaciuta non abbiamo tantissimi tantissimi effetti però come potete vedere sono facili da applicarsi quindi facciamo questo effetto rilievo molto carino togliamo l'effetto nessuno fotografiamo la scritta e andiamo a vederla sempre foto piuttosto nitida e anche con scarsa ruce il lavoro svolto da huawei è stato veramente ottimo possiamo vedere anche il dettaglio per esempio quasi in macro di questa bottiglia come possiamo vedere inoltre abbiamo anzi non possiamo vederlo scusate abbiamo una batteria non rimovibile purtroppo questo tipo di case dello smartphone non ci consente di avere una batteria rimovibile naturalmente se ci sarebbe stato benissimo il modo di inserirla però la batteria da 2000 mAh ci consente di arrivare a fine giornata abbastanza tranquillamente ero un po' dubbioso su questo fatto ma alla fine dalle 6 e mezza del mattino fino alle 9 di sera anche stressandolo un po' giocando poco a dire la verità si siamo riusciti ad arrivare a sera vi attivo questo gioco sia per farvi sentire l'audio scusate ho sbagliato il tasto invece di alzare il volume ho bloccato tutto allora vi dico già subito il volume è abbastanza alto ma manca assolutamente di bassi i bassi proprio non si sentono riptide GP il primo capitolo incluso è anche personalizzato dalla stessa Huawei ma solo in qualche logo in qualche altro elemento nei giochi già solo in riptide abbiamo notato una certa scattosità in alcune situazioni niente di eclatante come potete vedere si gioca benissimo però gli fps non mi sembrano essere stabili c'è qualche calo di frame rate ogni tanto allora schermata di multitasking praticamente è la standard aggiunge qualche elemento come le informazioni sulla ram utilizzata la possibilità di chiudere le applicazioni anche schiacciando sulla x invece di fare lo swipe oppure di chiudere tutte insieme tramite questo pennello dialer dialer invece è classico nella forma ma con la funzione di ricerca rapida in rubrica come potete vedere abbiamo la ricerca rapida e con quel tasto invece andiamo ai contatti e poi i preferiti rubrica ci rimanda i contatti naturalmente sms e messaggi io volevo far vedere la tastiera tastiera un layout piuttosto classico molto buona allora tastiera molto buona tasti studiati bene non esagerata come numero di funzioni unica piccola critica che ho notato soprattutto passando da nexus 4 questo e ripassando poi nexus 4 il feedback della vibrazione non è dei migliori è un po lungo nel senso che nel passaggio tra una lettera e l'altra si sente ancora la vibrazione della lettera precedente sembra una sciocchezza però è quel dettaglio che magari a qualcuno potrebbe dare fastidio naturalmente purtroppo molte volte abituato al drawer mi viene da cliccare sotto per trovarlo non lo trovo devo fare lo swipe tra le diverse pagine se teniamo premuto si apre questo menu menu che ci consente di scegliere i sfondi widget e le miniature cioè la quantità di home screen e le transizioni transizioni per esempio mettiamo pagina questo ci ricorda un po' i vecchi lancer i vecchi lancer erano famosi appunto per questo tipo di anche di temi oltre che di transizioni infatti ci sembra un po' tutto ottimo però ci sembra un po' di tornare indietro a gingerbread con questo tipo di personalizzazioni che possono essere disattivate non c'è nessun problema direi ancora di parlare del segnale del telefono che non è altissimo altissimo scusate non è non riceve tantissimo in determinate situazioni soprattutto il gps anche forse la struttura metallica gli da un leggermente fastidio a volte un segnale leggermente basso volevo inoltre finire confrontandolo un secondo con un nexus 4 come potete vedere il telefono è molto piccolo veramente piccolo piccolo è leggermente più pesante ma poca roba contate che sono della stessa categoria praticamente di smartphone hanno praticamente anche lo stesso prezzo ormai in italia che dire consigliare questo smartphone è assolutamente una cosa che possiamo fare è elegante elegantissimo anzi costruito benissimo è difficile trovare un altro smartphone android con una cura così maniacale nei dettagli quindi forse neanche il one ha una cura così dei profili del dettaglio rapportato anche al prezzo del device ci sono cose anche che non ci sono piacucciute la somiglianza con alcuni elementi di iphone la mancanza del drawer che sinceramente poteva essere evitata si può aggiungere in qualsiasi modo scaricando l'anser non è assolutamente un ostacolo i temi sono una buona aggiunta anche i profili però ha diversi elementi che ci ricordano più uno smartphone tra virgolette vecchio appunto con gingerbread con queste animazioni passate con queste icone molto orientali molto fumettose che dire se cercate qualcosa di veramente ben fatto senza un display full hd potrebbe essere potreste dare una speranza questo Huawei Ocean P6 che ha sconvolto un po' tutti al suo arrivo si è ridimensionato leggermente però continua ad essere ancora un ottimo smartphone un saluto da Alessandro per Nexus Lab non lo so con questa ricerca non lo so non lo so asciutto Grazie a tutti.